Il premio è molto importante, ripeto, al di là della 25esima edizione, è un premio che ha patrocino del CONI, per cui vuol dire che è un riconoscimento importante e credo, mi auguro, spero che durerà ancora, almeno per i prossimi 25 anni, per cui sono contento di essere qua, anche perché è un'occasione di aver incontrato un po' di amici con i quali abbiamo condiviso un po' delle vicende sportive, anche se in discipline diverse. Penso che è una salata bellissima, la premiazione è stupenda, non pensavo di poter vincere un premio così importante, perché non è che dipende soltanto da come hai giocato, ma da come ti sei comportato in campo. Penso di essere stato abbastanza molto corretto, perché se considero che da quando ho giocato a calcio non sono mai stato espulso, considerando il ruolo che giocavo, che di solito il mediano è sempre quello molto aggressivo, che tante volte esagera. Sono riuscito a controllare le emozioni e evidentemente sono stato fortunato. Lo vorrei dedicare ai miei genitori, ai miei genitori, ai miei babbi e mia mamma, perché non ho avuto dei genitori, ma ho avuto degli amici, che mi hanno insegnato i valori della vita, la realtà e il rispetto di tutto. Questa è la venticinquesima del premio, ma è la nona per Castiglione Fiorentino, l'ottava che per me è l'occasione di essere anche il sindaco che porge il saluto a tutti gli ospiti del premio. Quindi un momento anche di bilanci, perché 25 anni è una tappa intermedia, però è veramente un grande traguardo per gli organizzatori del premio ed è sicuramente anche ormai un consolidato appuntamento per la nostra città, che si aspetta da questa manifestazione ovviamente di vedere personaggi dello sport di altissimo spessore in un momento in cui neanche la pandemia è riuscita a fermare il premio February internazionale Menarini, perché questo bisogna ricordarlo sia nel 2020 che nel 2021 in momenti particolarmente anche delicati come sono questi, rispettando tutte le normative e tutte le prescrizioni, il premio Fair Play Menarini si svolge a Castiglione Fiorentino credo anche con il solito entusiasmo, anzi con un messaggio ancora più forte che nonostante tutto vede la partecipazione di tutti questi personaggi.